Sto attraversando il ponte sul mare, questo ponte ciclabile e pedonabile, molto bello, e attraverso il fiume Pescara, che sta qui al centro di Pescara. Da qui vediamo le montagne, la magliella, il Gran Sasso, dalle montagne si vede il mare, quindi c'è questo trait d'union fra bellezze, perché questo è un posto molto bello. Noi da qui partiremo e andremo a visitare un po' tutte queste bellezze, che sono anche bellezze enogastronomiche, perché andremo su a Farindola a cercare il pecorino, andremo a fare gli arosticini a Rigopiano, le virtù non le conosco, e andrò a cercare chi me le racconterà, andrò a assaggiare il brodetto di vasto e vedere come si fa. Quindi diciamo che da qui, come un polipo, cercherò di andare a vedere un po' tutte le eccellenze di questa meravigliosa regione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.